Colleferro, una città che sta cercando di uscire da un periodo di crisi attraverso una revisione totale della propria organizzazione strutturale, oltre ai problemi di natura amministrativa che ci sono stati. Il lavoro sarà senz'altro di difficile attuazione, date le enormi lacune presenti che si trascinano da anni di malgestione della quale i cittadini sono ben consapevoli. La nostra troupe si è recata comunque sul posto dove i lavori per la tentativa ripresa sono partiti con la fine del periodo estivo. Il progetto di ristrutturazione ha come base la sistemazione del piano regolatore di Colleferro. I cittadini hanno intanto avuto modo di vedere come ciò sta avvenendo, con la variazione dei sensi di marcia sulla viabilità urbana. Uno dei problemi che senz'altro sarebbe stato il caso di risolvere è quello del traffico intenso che converge verso la zona centrale del paese causando inquinamento e confusione. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!